E' una vecchia conoscenza della DIA, l'imprenditore 53enne Gaetano Liuzzo, originario di Tortorici nel Messinese, ritenuto organico al clan mafioso siracusano Trigila e affiliato al clan mafioso catanese capeggiato dal boss Benedetto Santa Paola. Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Catania ha confermato la confisca disposta precedentemente dal Tribunale di Siracusa a seguito del sequestro che era scattato nel 2011. L'imprenditore è a capo di alcune aziende che operano nel settore dei noleggi di videogiochi e giochi d'azzardo. Le indagini erano scattate a seguito dell'operazione Nemesi condotta dalla polizia siracusa nel 2008 contro il clan mafioso Trigila-Aparo, operazione che si concluse con oltre 60 arresti. Liuzzo, coinvolto in quell'inchiesta, venne successivamente arrestato dopo una condanna a tre anni e sei mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Tramite i suoi legami con le COSC, l'imprenditore avrebbe gestito quasi in regime di monopolio il mercato del noleggio di apparecchiature per giochi e videopoker nelle province di Siracusa e di Ragusa. Secondo alcuni collaboratori di giustizia, Liuzzo versava mensilmente nelle casse dei clan la somma di 20.000 euro in cambio non solo della protezione ma anche dell'azzeramento della concorrenza. L'uomo aveva creato una società, la Media Game, e poi aveva dato vita ad una vera e propria holding di famiglia con la costituzione di altre due società intestate a familiari e a soggetti compiacenti. Tra i beni confiscati spiccano quattro terreni e tre fabbricati a Siracusa, dieci automezzi tra cui una Maserati Gran Turismo, tre società e diversi rapporti bancari e postali.